Ogni volta che lo devo presentare, io dico sempre una cosa. Da questo momento, dell'assessore console, auditorio e sexa, non non è un sogno, è la realtà, è arrivato RIKI! Tutte le mani assieme, RIKI NEMO! Nessumi Griglia! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!